per me cambia la moto si sa che il piso si sa che il piso si sa che il piso No, 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 no. Gli da troppo dopo, invitato con la sua. Devi dargli un po' prima, perché questa arriva dopo, è per quello. È un altro mondo. Chi viene alla fine? Andiamo io e te? Basta chi mi sa. No, va bene. Ce ne andiamo su un pezzo? Dai, dai. Andrea, sei basce rispetto a me. Eh, sono due guide diverse. Eh, non da fare un botto, figa. Mi so, perché se lo viva più corto, se lo dice tutto, è sempre facile. Infatti, io gli ho messo un tappino delle ruote, da Dio, perché va su a vite, chiude, finito. E sfoga fuori in alto il buchino. Morbido. Allora, allora, eh, che cavolo. Io lo sapevo, ma non gliel'ho detto. Salta su. Salta su. E passo come io i due tempi, non ti faccio più a... Non devi accelerare. Ti riprendi una mano. Basta, ce l'ho già finito. Giorno è già fatta. Salta su. Giorno è già fatta. Giorno è già fatta. Giorno è già fatta. Eh sì, è quella da chiudi, eh. Questo è il bello che ti viene dietro. Questa l'ha fatta bene proprio, ho detto, cazzo, l'ha presa precisa. E' giusto, questo spazzuolo, non vi lo fate regolare. E non... No, no, no. Questa è una roba per gesta. Ah, io non so più che attacchi. Adesso ce la prendiamo, figlio. Ok, faccio la metta a metà. Ma andate la metà a me. Vufficialmente, non cazzo? Vi faccio te lo faremo essere. Capriolo ha fatto... E' quella passata come un capriolo. con un capriolo io che cazzo che la faccio saltare così ma lui vedi come usa tanto vai 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 a provare dai pistolera c'è rimasto lì mi fatti ma c'è dentro c'evo la prima mi ha fatto fare una zona c'era una salita ero corto aperto vai vai con l'ibrido provala che così dopo il montese non lo prendi più dai 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 su prova quella la che è vergine vai te l'accendo io no 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 la provo io quella degli altri non la provo e dopo la mia non va bene tu la devi provare che adesso l'hai provata dai però su prima senti che patame di una volta trovare per credere è veramente un'altra cosa è in prima è tutto eh pressione, sospensione, monoerugazione, freno motore non ce l'ha è vino sposto qua e lo prima poi la mia dietro è gnocca è gnocca dietro è successivo è successivo la cosa fai un sciacquaggio vedi come arriva corto no no arrivi corto guarda quando apri sembra delle due tine si si ho visto che guarda apri non succede nulla cazzo 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 apri e non va infatti lì ho aperto figa è rimasto lì è stramba così questa eh no il mono dietro effettivamente fa cagare deve essere tutto deve essere tutto no no ma la tua cazzo lavora da dio perché si vede come fa che poi se gli dai saltano ma se tu fai l'ostacolo non ti spara dietro pito lo segue è sia sia reattivo ma anche con tanta trazione perfetto questo